Gatto amico, gatto amico, in vacanza mi hai portato Prenotate la vostra settimana con i grandi spettacoli tutte le sere nella settimana del liscio da mare a Gatteo Mare 7 giorni a 290 euro, 4 giorni a 180 euro, 3 giorni a 140 tutto compreso colazione, pranzo, cena, lettino e ombrellone è il primo giorno, il 9 settembre, grande spettacolo di Omar Codazzi e tutta la sua orchestra presso i giardini del Parco Guanella proprio di fianco al Bagno Massimo, vi aspettiamo a Gatteo Mare